La situazione appunto a soccorso dell'ospedale Moscati è insostenibile, una bolgia che provoca contrasti tra medici e pazienti, anche episodi di violenza che ricadono sugli operatori sanitari. La diagnosi del presidente dell'ordine dei medici di Avellino, Francesco Sellitto, sullo stato di salute della sanità in Irpinia, tutto sommato è buono, ma presenta delle emergenze da codice rosso, come appunto nel caso dell'accesso appunto a soccorso del nostro comodo di Contrada Amoretta. Sellitto nel corso della conferenza stampa organizzata dopo un incontro avuto con i sindacati impegnati nella sanità, ha sottolineato la carenza di organico che penalizza l'azienda ospedaliera, la necessità di ricorrere con urgenza, ad assumere personale, perché tra qualche anno, avverte, i Moscati rischia di non contare più su medici specialisti, l'occasione da non perdere dell'accorpamento l'andolphe i Moscati. I problemi sono tantissimi nella sanità, voi lo sapete, l'accesso al punto soccorso è uno di quelli più grossi, infatti la sosta per giorni dei pazienti al pronto soccorso è diventato intollerabile, sembra una bolgia dantesca sinceramente. Il problema è a molteplice cause, la prima è la carenza di personale, la carenza di personale sia al pronto soccorso ma soprattutto anche nei reparti che ha determinato una perdita di posti letto ulteriore, oltre a quelli che sono state fatte dal piano regionale ospedaliero e quindi questo provoca un imbuto del passaggio dal pronto soccorso verso i reparti dei pazienti. Purtroppo ci sono questi problemi, anche diciamo l'attrattività poi del Moscati che richiama cittadini di altre province verso il nostro comio che quindi è una cosa che ci fa comunque piacere. Su questo caso qual è la proposta dell'ordine dei medici? Ci sarà anche un incontro con l'ASL? Sì, io ho già detto che subito dopo questa conferenza stampa avrei convocato di nuovo il tavolo ospedale territorio facendo attenzione a che partecipi anche l'ASL che prima di questo periodo non partecipava, noi avevamo già questo questo tavolo che si era fermato nell'ultimo periodo, vogliamo riconvocarlo pregando l'ASL di partecipare perché dobbiamo mettere in atto i percorsi diagnostico-terapeutici, percorsi che ci consentiranno di liberare risorse che possono essere poi utilizzati per la presa in carico dei pazienti che faciliterà l'accesso all'ospedale.